Lavorate per il Regno di Dio. 30 luglio 1972. Figli miei diletti, eccovi qui festosi attorno alla vostra mamma celeste e attorno alla vostra mamma spirituale, che è ritornata fra voi per continuare la sua missione di bene. Voi mi siete cari, come lo siete a lei che per voi lavora. Continuate perciò a darle consolazione amandovi reciprocamente, come date consolazione a me indirizzandomi le vostre preghiere. Vedrete che insieme realizzeremo grandi cose. Soprattutto avverrà quell'auspicato Regno di Dio che è il motivo della vostra esistenza quaggiù. Avete sentito nel Vangelo accennare ripetutamente al Regno di Dio. Vi è stato detto che esso è come quel tesoro prezioso che sta in un campo e chi lo trova, vende tutti i suoi averi e compra quel campo per poterlo possedere. Un triplice campo, un triplice tesoro, un triplice regno vi attende. Vi è un campicello, ed è l'anima vostra, tesoro grande per il suo valore e per il prezzo del suo riscatto. Per questo regno dovete lavorare soprattutto, pensando che nessuno può salvare la sua anima, se non lavora con convinzione e con volontà attorno ad essa. È un'aiuola che dovete coltivare, cominciando con l'estirpare le erbacce che sono i vostri difetti, e seminando quelle virtù che il Signore desidera che i Suoi figli possiedano. Quante aiuole piene di serpi, figli miei! Non vi dovete lasciare intimorire dalle difficoltà, non dovete deporre le armi dicendovi incapaci, ma riprendendo continuamente il vostro lavoro. Umiliandovi davanti a Dio per la vostra debolezza, dovete ogni giorno chiedere forza, coraggio, e soprattutto ciò che Salomone chiedeva al Signore. Di saper distinguere il bene dal male per essere in grado di ben governare voi stessi. Poi vi è un altro regno che è formato da tutti i fratelli. Anch'essi devono scoprire il tesoro, devono capire l'immenso dono di Dio che è l'anima in grazia. Devono risanarsi e formare tutti uniti quel regno d'amore in cui il Signore siede veramente sovrano. Come non dovete dimenticare lo scopo principale della vostra vita, la vostra salvezza. Così dovete tenere sempre presente che il regno di Dio si realizza nel mondo per mezzo della carità. Nell'esercizio costante della misericordia, virtù divina, si porta nel mondo Dio, la sua bontà, la sua luce. Se ognuno si prefiggesse questo duplice lavoro, credetemi, figli, io potrei spalancarvi il terzo regno e mostrarvi in esso, che chiamate comunemente la Celeste Gerusalemme, il vostro seggio, ricco di gloria e di felicità senza fine. Tutti siete indirizzati a questa celeste dimora, dove siete attesi con ansia dalle schiere festose degli angeli e dei santi. Dalla Trinità Santissima siete attesi, da Gesù Re e Conquistatore del Regno e dalla vostra mamma, che vi ama tanto. Orsu dunque, figli, nulla vi sia gravoso nella vita. Tutto sappiate dimenticare e perdonare. Che volete, finché siete sulla Terra non vi possono mancare fastidi e pene. Vi sono i buoni e i cattivi. Ma anche i buoni hanno le loro imperfezioni che gravano sugli altri. Non appesantite la vita che è già tanto dolorosa per tutti gli acciacchi e le pene che porta con sé. Sappiate sorvolare, dimenticare e capire anche gli altri nelle loro esigenze dovute all'età, allo stato di salute e a molte altre cause, che qualche volta sembrano cattiverie e sono appena delle imperfezioni. Se guardate il cielo che vi attende, tutto vi sembrerà nulla e tutto ciò che passa vi sembrerà di nessun valore. Fate tesoro di tutto. Ogni piccola sofferenza può essere quel chicco di frumento che, accettato ed offerto, produce la spiga e matura per i granai eterni. Figli, vi benedico tutti ad uno ad uno, cominciando da coloro che hanno la croce più pesante da portare. Benedico i genitori che piangono per i loro figli. Vi aiuto, non temete. Quando io prometto, mantengo. Non vi dico il giorno e l'ora, ma vi dico, non dubitate della loro salvezza. Consacratemi ogni giorno con le vostre sofferenze, le anime dei vostri figli e state sereni. Ve li salverò. Voi pregate molto ed io ne godo. Sappiate pregare anche col lavoro offrendolo a Dio, e state uniti con la vostra mente ed il vostro cuore al vostro angelo custode e a me durante il giorno. Noi vi rappresentiamo davanti al trono di Dio, supplicandolo per voi e per i vostri cari. Figli, il mese di agosto che state per incominciare, vi porti la gioia di lavorare per voi e per gli altri, come angeli attorno al regno di Dio e vi faccia guardare con fiduciosa speranza il cielo, dove gli angeli mi portarono dopo la mia morte. Arrivederci, figli cari, vi benedico ancora abbracciandovi ad uno ad uno.